Ciao a tutti, oggi vi racconterò i firewound facts about me di Federico, 5 fatti a caso su di me. Il primo fatto è che quando non so che fare mi metto a mangiare dolciumi. Sì, so che non fa bene ma mangio dolciumi. Il secondo fatto è un po' buffo, è che ogni tanto mi metto a fissare il frigo. Sì, a fissare il frigo. Aperto però. Il terzo fatto su di me è che mi piace fare video, montagli, tutte queste cose qua, tutte le cose tecnologiche. Il terzo fatto è che lo dico, perché va bene, se puoi anche non prendermene. E' che sono destro, però vuole tanto essere mancino, perché è figo scrivere con la sinistra. Infatti ogni tanto mi cimenta a scrivere con la sinistra, ma con la sinistra dovremmo me cagliere se ti metto. Ah, va bene. Quinto fatto ed ultimo su di me è che ogni tanto ho attimi di pazia. Cioè, me ne esco di testa, faccio qualunque cosa possibile immaginare. Proprio momenti di pazia. Pazzo, mi metto pazzo. Pazzo, mi metto pazzo. Pazzo, mi metto pazzo. Pazzo, mi metto pazzo. Questi erano i 5 fatti a caso su di me. Spero di avervi fatto divertire e di avervi fatto fare una risata. Se è così, buon per voi. Ciao.